amiche carissime specialmente gli amanti del dono della divina volontà e una santa serata a tutti ave maria nel fiat supremo e bentornati l'appuntamento che è diventato mensile adesso a causa del moltiplicarsi di impegni concomitanti o confliggenti con la nostra catechesi diciamo estesa sulla divina volontà, catechesi tematica ricordo sempre che questo credo che sia il quinto ciclo di catechesi tematiche sulla divina volontà oltre alle quotidiane meditazioni insomma che condivido con tutti coloro che in qualche modo sono affascinati attratti e interessati al mondo della divina volontà ossia ciò che gesù di essa ha detto alla serva di dio guisa ricca e rete diciamo sempre un pochino di ripasso quindi ricordo a chi fosse interessato diciamo così ad approfondire in maniera sistematica il discorso della divina volontà io ho dato il mio piccolo contributo cercavo di farlo attraverso delle catechesi appunto sistematiche sistematiche e possibilmente sintetiche la prima serie è stata il dono della divina volontà che presenta proprio una panoramica ecco di quello che è questa cosa che il signor ha rivelato poi ci sono state un'altra serie di cicli Adamo nella divina volontà se non ricordo male fondersi nella divina volontà e questo è girare nella divina volontà non vorrei che ci fosse stato anche qualche altra cosa ma la mia adesso attuale memoria che ogni tanto mi comincia a tradire potrebbe essersi verso qualche pezzo non credo eh quindi però speriamo insomma oltre a queste cose ci sono dei cicli di meditazione sulla Vergine Maria nel regno della divina volontà che sono stati praticamente tutti quanti meditati adesso stiamo meditando nei città con i mensili e gli appendici e grazie anche all'apporto di alcune carissime volontarie collaboratrici che ringrazio anche pubblicamente stiamo anche curando la revisione degli audiolibri del libro di cielo cioè chi vuole preferisce non leggere materialmente insomma ma ascoltare può farlo i volumi sono disponibili tutti sul mio sito web tutti sulla piattaforma podcast di iTunes stiamo piano piano aggiornando anche le altre ma Romano che stiamo cercando di riaggiornarli in maniera fatta un pochino meglio con sottofondo musicale insomma con un'edizione insomma non dico professionale ma quantomeno attenta perché il materiale insomma che io avevo a disposizione che c'era un pochino in giro era molto molto antico e mi era arrivata diciamo la risonanza di una certa difficoltà ecco nell'ascolto abbiamo mezz'ora di fare questa cosa ci sono anche gli audiolibri delle ore della passione recitate insomma e quindi che possono essere ascoltate del Pio Pellegrinaggio dell'Anima nella Divina Volontà io ho anche realizzato personalmente un paio di podcast con le preghiere del mattino e della sera nella Divina Volontà per chi vuole insomma addormentarsi e svegliarsi bene e quindi tutto questo è sempre poco in confronto a quello che si potrebbe si dovrebbe fare e dire di questo mondo quindi ecco adesso oggi riprendiamo la lettura di questo testo curato come sempre da come tante volte ho detto da composto dalla pazienza e dalla competenza di Don Pablo Martín e siamo arrivati al volume diciassettesimo e c'è un brano a proposito dei giri che è tratto dal 17 maggio del 1925 ricordiamo sempre che il girare e il fondersi molto spesso sono operazioni non perfettamente distinte contigue, adiacenti addirittura in certi casi è interscambiabile quindi una fusione spesso e volentieri in un giro anche se un giro non sempre comporta l'espressione di un atto di fusione allora leggo e poi ci fermiamo come al solito con qualche considerazione avendo fatto sentire al confessore ciò che sta scritto qui innanzi in data del 10 maggio non è restato contento e mi ha imposto di riprendere a scrivere il modo di fondermi nel santo volere divino ed io solo per ubbidire e per timore che il mio Gesù potesse minimamente dispiacersi riprendo il mio dire premetto subito questo brano se non ricordo male è stato trattato anche nel ciclo di Carreghese fondersi nella divina volontà perché già leggendo l'Incipit ricordo che qui Luisa spiega proprio i suoi vari modi di fondersi che sono molto molto importanti certamente anche per noi non è importante questo qui perché voi sapete che anche i Vangeli che ascoltiamo durante la liturgia della parola quelli feriali penso che sappiate che sono disposti su scala biennale mentre quelli festivi su scala triennale prete come me che prete da 16 anni ha già fatto per 5 volte le omelie sugli stessi Vangeli domenicali e festivi e per almeno 8 volte insomma quelli sulle letture feriali quindi però ogni volta ecco non sapete si dice che Dio non si ripete ma anche noi esseri umani non ci ripetiamo cioè chi di noi sarebbe capace proviamo a pensare cioè se io dovessi ripetere il commento uguale a questo brown di quello che ho fatto a suo tempo non sarei capace ma perché semplicemente non me lo ricordo quindi certamente potrei prendere l'audio l'MP3 e mandarlo in onda d'accordo? però io non sarei assolutamente in grado insomma no? delle volte addirittura su cose abbastanza simili si tirano fuori tante cose differenti questo è la bellezza anche la la ricchezza diciamo così del nostro del nostro essere immagine e somiglianza di Dio Dio non si ripete ma in questo senso non si ripetono ma con gli esseri umani no? sapete quali sono le uniche cose che si ripetono? no? sono le macchine sono i computer sono appunto i dispositivi audio tu metti una cosa e te lo ripete sempre uguale non si sbaglia quindi la perfezione nell'uguaglianza non è una perfezione ma è un'imperfezione perché lo fanno le macchine che sono stupide ma non lo fanno gli esseri umani che sono intelligenti no? ci ho premesso andiamo avanti io raggiungo che mentre si presenta la mia mente quel vuoto immenso nel fondermi nel supremo volere la piccola bambina riprende al suo giro e rilevandosi in alto vuole ricambiare il suo Dio di tutto l'amore che ebbe per tutte le creature nella creazione vuole onorarlo come creatore di tutte le cose perciò gira per le stelle in ogni scintillio di luce imprime il mio ti amo e gloria al mio creatore in ogni atomo di luce del sole che scende nel basso ti amo e gloria in tutta l'estensione dei cieli tra la distanza di un passo all'altro il mio ti amo e gloria nel gorgheggio del lucero nel battere delle sue ali amore amore e gloria al mio creatore nel filo dell'erba che spunta sulla terra nel fiore che sboccia nel profumo che si eleva amore e gloria giro per ogni cuore di creatura come se mi volessi chiudere dentro e gridare dentro ad ogni cuore il mio ti amo e gloria al mio creatore vorrei che uno fosse il grido uno la volontà uno l'armonia di tutte le cose gloria ed amore al mio creatore e dopo come se avessi riunito tutto insieme in modo che tutto dice ricambio di amore attestato di gloria per tutto ciò che Dio ha fatto nella creazione mi porto al suo trono e gli dico maestà suprema e creatore di tutte le cose questa piccola bambina viene nelle vostre braccia per dirvi che tutta la creazione a nome di tutte le creature vi dà non solo il ricambio dell'amore ma della giusta gloria per tante cose da voi create per amore nostro e la nostra volontà in questo vuoto immenso ho girato dappertutto affinché tutte le cose vi glorifichino vi amino e vi benedicano e già che vi ho messo in rapporto l'amore tra creatore e creatura che la volontà ma l'aveva spezzato e la gloria che tutti vi dovevano fate scendere la vostra volontà sulla terra affinché vincoli raffermi tutti i rapporti tra creatore e creatura tutte le cose ritorneranno nell'ordine primiero da voi stabilito perciò fate presto non più indugiate non vedete com'è piena di mari la terra solo la vostra volontà può restare questa corrente può metterla in salvo ma la vostra volontà conosciuta è dominatrice ecco ci fermiamo perché dopo il brano va avanti è abbastanza lungo e facciamo dei pit stop però così non ci stanchiamo anche nell'ascolto e possiamo considerare ecco io già ho un dubbio se partire il commento dalla conclusione che però non è tanto non sarebbe tanto centrato sul girare ma questa è una grande verità una grande verità e soprattutto un'attualissima verità oppure sul resto del brano facciamo così uno sguardo a quello che Luisa sta dicendo e poi magari mi soffermo per qualche istante qualche minuto vediamo quanto Dio vuole sulla conclusione no? allora questo è il classico giro completo che Luisa fa in quello che si chiama tecnicamente il Fiat Creante qui c'è gli atti fatti quindi le creature in cui si va a girare il fine dare a Dio ricambio dell'amore e della gloria per sé e per tutti il fine ultimo invocare attraverso questa operazione spirituale poi lo vedremo l'avvento del regno della divina volontà sulla terra e quindi si tratta di dare a Dio l'amore e la gloria che gli è dovuta attenzione quella che si chiama tecnicamente credo che l'abbiamo già detto altre volte ma ripetita io quanto la gloria accidentale voi sapete no? il motto di Sant'Ignazio di Loyola era ad maiorem dei gloriam cioè alla maggiore gloria di Dio tutto quanto dice tutto quello che fate in parole d'opere scrive San Paolo nelle sue lettere tutto si compie a gloria del Signore a gloria di Dio a lode e gloria di Cristo rendendo per me tutti noi grazie a Dio Padre no? che significa agire a gloria di Dio? allora i teologi dogmatici hanno da sempre distinto due specie di gloria divina una intrinseca o essenziale si chiama così e una estrinseca o accidentale che significa questo? significa che la gloria intrinseca o essenziale di Dio è una cosa che Dio ha e non gliela toglie nessuno non cresce e non diminuisce d'accordo? perché dipende da che cosa? da ciò che Dio è e ha d'accordo? è gloria in ebreco si dice kaved kaved significa letteralmente essere essere pesante quindi la gloria è il peso specifico di Dio è ciò che fa di Dio ciò che Egli è quindi i Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria si dice sotto questo punto di vista c'è una gloria essenziale che però poi fuoriesce da sé appunto i Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria dove? in ciò che Dio fa ora questa gloria che fuoriesce diciamo così per intenderci insomma dalla Santissima Trinità e si spande all'universo intero deve essere questa è la gloria estrinseca deve essere dall'uomo riconosciuta e deve essere riportata a Dio e come diceva Santireneo qual è il luogo dove la gloria di Dio accidentale risplende massimamente la gloria vivente è l'uomo la gloria di Dio scusate è l'uomo vivente cioè l'uomo è ciò in cui maggiormente rifugia la gloria di Dio la sua bella statua e l'uomo deve rendere a Dio questa gloria in che senso cioè riconoscerlo che è il suo creatore riconoscerlo che tutto quello che di buono è e ha lo ha ricevuto da Dio perché è la verità e ringraziarlo e appunto dargli la gloria che lui stesso ci ha donato e non soltanto per aver fatto me ma anche per aver fatto tutto quello che sta intorno a me attraverso cui ha voluto riempire di gioia e di bene la mia esistenza la mia vita questa si chiama la gloria accidentale questa certamente questa è soggetta a variazioni cioè a crescere o a diminuire quindi se c'è una persona che dà a Dio la massima gloria possibile questa cresce ma se la maggioranza degli uomini purtroppo questa gloria a Dio non la riconosce non gliela dà questa diminuisce noi siamo tenuti però ad agire a lode e gloria di Dio ecco girando diciamo così si fa questo e lo si fa anche per chi non lo fa venendo meno ad un dovere gravissimo che noi esseri umani abbiamo perché noi siamo gravemente obbligati nei confronti dell'altissimo a fare questo infatti dice vi dà non solo il ricambio dell'amore ma della giusta gloria per tante cose da voi create cioè rendere gloria a Dio in questo senso fa parte della virtù cardinale della giustizia in particolare la giustizia che regola il nostro diverso Dio che tecnicamente si chiama la virtù della religione e chi non lo fa pecca d'accordo con questa gloria a Dio bisogna rendergliela perché gli è dovuta non è un favore che noi gli facciamo ecco allora e attraverso l'ultima cosa che si fa con questo allora perché dice facendo tutte quante queste cose fai avvenire il regno di Dio sulla sulla la divina volontà che fa la stessa cosa il regno di Dio la divina volontà è la stessa cosa sulla terra ecco perché non verrà il regno di Dio la divina volontà sulla terra se tutti a Dio non gli danno la gloria e l'onore che gli è dovuto capite no come mai che è venuto che il verbo si è fatto carne siamo ormai vicini a Natale nel grembo della Vergine Maria certamente perché Dio è la scelta per carità ma Dio secondo noi ha dato scusate Maria secondo noi ha dato tutto o no a Dio lei di tutto e di più e quindi pur essendo una grazia perché certamente la Madonna non ha mica meritato insomma che il verbo si facesse nel suo grembo ci mancherebbe altro è grazia però a quella grazia la Madonna si è disposta che più disposta di lei non poteva essere nessuno insomma quindi trascorrendo tutta quanta la sua vita dalla nascita fino al momento dell'annunciazione in una santità perfettissima ecco allora la conclusione ci dà motivo di riflettere perciò fate presto non più indugiati non vedete come è piena di mali la terra questa questo credo che sia un'affermazione su cui siamo tutti d'accordo è piena la terra di mali o non è piena e come si fa a fermare questi mali a contrastare questi mali ad annientare questi mali a neutralizzare questi mali a stornare questi mali a levarceli dai piedi se vogliamo essere un po' più feriani un po' più terra terra Luisa dice solo la vostra volontà può restare questa corrente può metterla in salve allora qui noi comprendiamo ce lo siamo detti tante volte l'ho detto tante volte e io personalmente questo lo dico e lo ribadisco ho abbracciato questa via è una scelta certamente opinabilissima d'accordo ci mancherebbe altro insomma tanto meno impongo pretendo che tutti quanti cercano questa via per carità viva Dio e viva la diversità ed è viva il pluralismo e la pluralità quando questa certamente si esplica cose buone e ugualmente legittime e lecite no? però quindi quali sono le soluzioni dei problemi personali ecclesiali politici d'accordo? qual è? allora c'è chi pensa che bisogna fare questa cosa quest'altra cosa prendere questa iniziativa fare quest'altra cosa pensate nelle nelle chiese locali no? i progetti pastorali d'accordo facciamo questo progetto pastorale X quest'altro progetto pastorale YZ per carità cioè io personalmente ho presentato personalmente io ed è anche una cosa molto bella il nuovo progetto insomma per la formazione dei della catechesi insomma dei ragazzi del 0-18 anni per la mia dioce insomma quindi per carità no? quindi queste cose va tutto quanto bene d'accordo? quindi nei limiti del possibile uno deve agire operare eccetera eccetera ma la soluzione è un'altra perché tutti quanti i mali della terra dal coronavirus a le cose diciamo di natura più evidentemente come dire morale spirituale psicologica eccetera eccetera che non hanno a che fare con una malattia fisica hanno un'unica causa e hanno un'unica soluzione siccome nella vita noi non abbiamo tempo né modo né possibilità di fare tutto perché siamo limitati perché abbiamo risorse limitate abbiamo tempi limitati d'accordo? noi dobbiamo scegliere se vogliamo fare qualcosa che cosa vogliamo fare allora io ho creduto d'accordo e credo che il modo migliore per fare del bene anche a me d'accordo? egoisticamente parlando insomma ma sulle cose spirituali non si è mai egoisti fino all'egoismo è un difetto quando riguarda il mettersi a cento per l'attenzione o l'accaparrarsi tutte quante le cose che se c'è eccetera eccetera per me per la chiesa di cui sono ministro io non è che lo faccio e parlo forse lo faccio sicuramente lo farò in maniera spero non troppo male sicuramente imperfetta più che perfettibile forse anche molto imperfetta è molto perfettibile però non è che non lo faccio d'accordo? faccio però io non penso che la soluzione dei problemi della mia parrocchia o della mia diocesi o della chiesa dipende da quello che faccio diciamo così anche come parroco anche se lo devo fare e farlo bene perché il nostro signore se non me ne fa correre quando vado dall'altra parte ma dipende da quanto da tanto quanto io vivo io prego io invoco io accelero nel mio piccolo per quello che posso la nostra volontà conosciuta e dominatrice come dice il nostro signore ecco perché sto parlando della dina volontà perché la dina volontà bisogna conoscerla prima che questa possa essere dominata capiamo no? uno non ha tanto tempo a disposizione cioè pensate che tutte quante le mattine mettere 30-40 minuti in condivisione è una parte che lo spiego insomma della giornata ho portato una serie di cioè che cosa fai in quei 30-40 minuti la meditazione sulla dina volontà o fai un'altra cosa questo per non lo sto dicendo mi dispiace che accidentalmente sto parlando per me ma questo per capire cioè noi dobbiamo per forza fare delle scelte di di vita ecco questa è una scelta di vita ed è una scelta di fede d'accordo perché si fonda il fatto che io credo fermamente che specialmente dinanzi ad alcuni mali attuali che si vedono dovunque sia a livello ecclesiale ripeto che a livello della società civile non c'è nessuna possibilità di come dire porvi rimedio attraverso espedienti e operazioni dipendenti dalla volontà umana noi possiamo fare alcuni esempi cioè vediamo se qualcuno trova la ricetta noi possiamo fare tutte le altre le manifestazioni che vogliamo io ci sono stato le manifestazioni non è che non ci vado ci vado d'accordo si faccia avanti qualcuno che pensa di avere qualche iniziativa o qualche cosa da fare per per esempio cancellare dagli ordinamenti giuridici la legge sull'aborto manifestazioni in Polonia addirittura che sono state fatte nei giorni scorsi addirittura nella cattolicissima Polonia chi è che ha la ricetta si faccia avanti che se dice la ricetta giusta io sono il primo a impegnarmi d'accordo ma non c'è cioè pensate oggi per esempio a tutto quanto il politicamente corretto che riguarda quello che stanno discutendo in Parlamento e sotto quanto il mondo dell'omosessualità del genere che appena dici mezza cosa vieni completamente aggredito d'accordo anche se tu dici pagatamente serenamente una cosa che non si può non dire d'accordo perché da un punto cioè io sono un prete d'accordo quindi cioè il sesto comandamento vale per tutti d'accordo per tutti per chi è disordinato sessualmente a livello individuale e personale nei rapporti con l'altro sesso di sesso differente nei rapporti con l'altro sesso dello stesso sesso d'accordo cioè non è che uno fa le categorie privilegiate io sto parlando del sesto comandamento d'accordo ma se tu affronti un argomento oggi succede il finimondo succede perché la maggioranza cioè è talmente tanto radicata che ormai alcune cose sono passate così ma allora così te rassegni no che non te rassegni non possiamo mai rassegnarci d'accordo vedendo il male quindi dire pazienza no pazienza pazienza neanche per niente noi soffriamo noi facciamo quello che si può per arginare ma c'è qualcuno che ha la capacità o la ricetta per rovesciare queste cose dici faccio la rivoluzione e chi la fa la rivoluzione su certi argomenti anche se fa parte il fatto che la rivoluzione è tutto quanto da dimostrare che si possa fare sia a livello politico che a livello ecclesiale ma chi ti segue nella rivoluzione la rivoluzione non si fa da soli d'accordo nei grandi movimenti rivoluzionali del corso della storia c'erano la maggioranza diciamo così delle folle e delle popolazioni che decidevano di fare la rivoluzione non è che si fa la rivoluzione un drappello di come dire sparute persone contro tutti perché la rivoluzione sarà immediatamente repressa e soffocata ripeto ammesso e non concesso perché non è concesso che la rivoluzione sia uno strumento adatto per poter operare non serve allora ci dobbiamo come dire rassegnare no e come si vanno a rassegnarsi due cose primo fai bene quello che il signore ti ha messo a fare nella tua vita io cambio il mondo e la chiesa io personalmente come tu se faccio bene il prete se faccio bene il parroco tu se fai bene la moglie il marito o la mamma il padre o il battezzato o il lavoratore quello in cui il signore ti ha messo ora d'accordo se il signore ti mette davanti la possibilità di intraprendere anche qualche attività qualche iniziativa buona e lecita tanto per farmi capire io negli anni passati quando venivo organizzato a Roma tutti gli anni ho partecipato alla marcia per la vita non tutti gli anni ma molte volte sì ma non è che io dico adesso andiamo alla marcia per la vita e il giorno dopo in Parlamento abrogano la legge sull'aborto ma uno sarebbe un cretino è un modo con cui uno manifesta con cui uno tiene destra la coscienza sociale ma sappiamo tutti benissimo d'accordo che non c'è nessuna possibilità allo stato attuale di rovesciare questa cosa non c'è non ci sta e allora resterà in eterno così chi ci metterà le mani le mani su certe situazioni o ce le mette il nostro signore o non ce le può mettere nessuno non perché non ce le vuole mettere ma perché non abbiamo la possibilità non ci abbiamo la forza non ci abbiamo gli attributi non ci abbiamo gli strumenti e allora se le mani ce le deve mettere il nostro signore non sarà una cosa molto opportuna e auspicabile investire sulla divina volontà sapendo e credendo che solo la vostra volontà può restare questa corrente quale quella per cui la terra è piena di ogni genere di male questa è una scelta opinabile d'accordo io ho imparato nel corso della mia vita insomma sulle cose che non sono di fede divina e cattolica si propone la propria posizione in maniera pacata umile anche se non è almeno propone le cose che pensa almeno ci prova in maniera umile e stop però le scelte attenzione nell'ambito dell'ecito vanno rispettate non possiamo credere una persona perché ha fatto una scelta di vita di forme dalla nostra chi ha fatto altre scelte di vita diciamo così diverse dalla divina volontà io non ho detto mica al pubblico mica di quello è un cretino che fa delle cose che non si servono a niente no d'accordo in coscienza per quello che capisce per quello che ha maturato ritiene bene agire la cosa fondamentale è che si resti sempre dentro i limiti e gli ambiti dell'ecito perché l'unica cosa che non si possono mai fare questo ricordiamo sempre è il male anche in vista del bene perché una cosa pur avendo delle buone intenzioni ma che è illecita nei mezzi è male questo non si transige ma nell'ambito delle lecce cioè spazio per una legittima diversità di posizione senza che chi la pensi in un modo debba offendere aggredire disprezzare o snobbare o umiliare o mettere alla berlina chi la pensa diversamente credo che anche questo sia divina volontà anche questa opinione mia personale proseguo la lettura se no non ce la facciamo a terminare questo è un brano abbastanza impegnativo onde dopo ciò sento che il mio ufficio non è completo quindi abbiamo visto la prima forma di girare adesso andiamo la seconda perciò perciò scendo nel basso di quel vuoto per ricambiare il mio Gesù dell'opera della redenzione e come se trovassi in atto tutto ciò che lui fece voglio dargli il mio ricambio di tutti gli atti che avrebbero dovuto fargli tutte le creature nell'aspettarlo e riceverlo sulla terra e poi come se mi volessi trasmutare tutti in amore per Gesù ritorno nel mio ritornello e dico ti amo nell'atto di scendere dal cielo in primo il mio ti amo nell'atto che fosti concepito oh qui c'è bellissimo ti amo nella prima buccia di sangue che si formò nella tua umanità nel primo palpito del tuo cuore per segnare tutti i palpiti con il mio ti amo ti amo nel tuo respiro ti amo nelle tue prime pene questo è un giro bellissimo tutti quanti gli atti della vita terrena di Gesù nelle prime turagrime che versasti in azione materno voglio ricambiare le tue preghiere le tue riparazioni le tue offerte con il mio ti amo ogni istante della tua vita voglio suggerire con il mio ti amo poi continua nella tua infanzia nell'amore con quella tua cara madre ti ragiona nella mangiatoia non voglio un attimo fermarmi magari poi lo finiamo di leggere tutti quanti insieme no? attenzione voglio dargli il mio ricambio di tutti gli atti che avrebbero dovuto fare di tutte le creature nell'aspettarlo e riceverlo sulla terra questa è la provvidenza che ci ha messo davanti in questo brano noi siamo nel tempo dell'avvento faccio una confessione io per chi non lo sapesse da tanti anni mi hanno chiesto insomma quindi lo faccio con volentieri che si è con un po' di fatica di scrivere le omeglie domenicali per un periodico cattolico che si chiama il settimanale di Padre Dio ecco voi capite che quando uno scrive sul periodico si va in pubblicazione cioè non è che questa settimana scrivo la l'omelia per domenica prossima perché cioè i tempi di pubblicazione sono generalmente molto anteriori quindi vi dico insomma che ho già scritto l'omelia anche addirittura per l'epifania no? e sinceramente quello che mi è venuto in mente come un po' un light motive no? perché quest'anno certamente sarà un Natale differente dagli altri anni è inutile che ci mettiamo sotto un dito come non parliamo poi di quello che è stato la Pasqua d'accordo? sarà un Natale differente adesso avete sentito insomma io non non amo sentire troppe cose però qualcosa mi arriva ecco prima volevano allentare le strette natalizie pare che adesso le vogliono ancora come dire ancora stringere ancora di più non si sa bene cosa che fine che dobbiamo fare no? adesso ok qual è la cosa importante per esempio in questo tempo io invito lo faccio anche per me cioè qual è la cosa che se ci pensi adesso ti fa più male ma no dobbiamo dirci la verità figlioni miei cari mi raccomando qui Luisa dice faccio tutti quanti questi atti per darti il ricambio degli atti di chi avrebbe dovuto farli per esprimere l'attesa che ha di te e per riceverlo sulla terra allora che ti dispiace di più questo Natale che ti chiudono dentro casa che magari non puoi raggiungere un parente anche un familiare stretto perché abita in un altro comune o che non puoi andare a una messa a mezzanotte a mezzanotte questo noi ce lo dobbiamo chiedere perché Gesù lo sa una persona innamorata di nostro Signore correggetemi cosa sbaglio insomma tirate i commenti fatemi una mail allora se io sono innamorato folle di nostro Signore non è che mi metta a fare le rivoluzioni d'accordo perché se una cosa del genere viene deciso da chi ha l'autorità di farlo non c'è niente da fare d'accordo c'è sta il governo c'è stanno i vescovi se questo decidono questo si fa d'accordo ma nessuno può proibirci di soffrire d'accordo di esprimere al Signore anzi credo che cosa gradita la nostra sofferenza questo si può sempre fare offrirla d'accordo allora chi è che soffre enormemente per questo il Signore io guarda se me ne starei pure chiuso rintanato ma quanto mi manca e quanto proprio soffro perché non posso andare a Messa di Mezzanotte avrei rinunciato a qualunque cosa pur di avere soltanto questa qualcuno fa questo pensiero? punto interrogativo l'Avvento è il Natale adesso io non lo so con com'è il clima in giro se adesso si può agitare se si possono fare le solite corse affannate ma davanti a Gesù io propongo non voglio fare avere toni polemici o aggressivi ma è prepararsi bene all'Avvento di Gesù quindi dare rigami di tutti gli altri che avrebbero dovuto fargli le creature nell'aspettarlo cioè il tempo dell'Avvento la Chiesa ce lo fa vivere perché vuole risvegliare in noi l'attesa di Gesù è la cosa più importante che esiste per noi nella nostra vita Gesù è l'assoluto allora se un battezzato cioè trascorre il tempo dell'Avvento è in giro per negozi per compere per impicci regali intrugli belletti quasi sempre inutili d'accordo a sé e al prossimo poi al ridosso del 25 cominciano le altre le altre ritualità diciamo così mondane e devo comprare il pesce per la cena del 24 poi la carne per il pazzo del 25 poi ci stanno tutti gli altri riti d'accordo i riti dei giochi natalizi allora tutte quante cose che noi potremmo vivere anche come dire con una certa tranquillità perché oggi la nostra cultura è intrisa di queste cose no? e ci sembrano effettivamente normali ma domanda è normale vivere l'Avvento così? è cosa gradita al cielo? è cosa di cui Gesù è contento? cioè che stiamo vivendo l'Avvento e il Natale dove stiamo pensando a tutto meno che a colui che dovremmo attendere ma con tutto noi stessi e accogliere con rinnovato amore al termine del tempo d'Avvento esagero sono troppo bacchettone sono troppo cattivo sono integralista islamico cioè io sono considerazioni che nel mio cuore pacatamente ci sono ci sono ma ci sembra normale che Dio scende sulla terra no? ma noi ci crediamo stamattina ho scritto l'omeria per l'epifania il giorno dell'epifania è il giorno dell'adorazione ma tu ci credi che quel bambino è Dio cioè che Dio è venuto sulla terra si è vestito di te ti ha parlato ti ha redento ma chi ci crede sul serio a questo oggi? chi si prepara profondamente a questo oggi? non soltanto c'è chi ormai è trascinato da una tradizione che è completamente come dire svuotata di contenuto ma adesso l'ultima notizia che circola sui social l'ho letta l'ho letta su twitter credo Donoretta fa non faccio nomi perché non fare nomi non non contraddistingue non voglio contraddistingue il mio stile perché sempre dire il peccato ma non il peccatore ma esiste un posto in Italia dove è stata rilanciata ufficialmente dalle istituzioni quindi da chi ha il potere di farlo la proposta di fare il primo natale senza Gesù cioè fare il natale laico ma questa non è come dire una novità perché già da qualche anno io le ho sentite con le orecchie mie che in alcune scuole adesso non so come si chiamano primarie quindi quelle che una volta erano una scuola elementare io con tutte queste terminologie nuove mi trovo un pochino difficoltà non si poteva più fare l'astro del cielo non si può fare non si può fare riusciti dalle stelle non si può fare ci sono una serie di canti come dire dove il nome di Gesù non si può nominare non si può sono canti che inneggiano a a mezze realtà ho chiamato un po' alla alla new age alla paganista paganistoide e Gesù non c'è normale normale cioè ma quanti giri dobbiamo fare queste le faceva qui stiamo nel 1925 nel 1925 credo che il Natale era molto 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 differente no? e che cosa dovremmo fare oggi? cioè oggi quanti ricambi dobbiamo fare a Gesù di tutti gli atti che avrebbero dovuto fare di tutte le creature nell'aspettare io da parroco cioè vedo che ascolti cerchi di capire il cuore di un parroco no? allora io nelle prediche se ne pare di sentire che stanno online degli ultimi Natali e Pasque scusa l'ultima che lamentavo che io non sono parroco da 50 anni ma da 15 sì anzi da 16 è un po' no? il numero dei cosiddetti termine pezzeggiativo e non dispregiativo Pasqualini e Natalini cioè di quelli che si ricordano almeno a Pasqua e a Natale di marcare le soglie di una chiesa almeno per quello che ho visto io nelle mie realtà andava progressivamente c'era la curva oggi se oggi oggi se come dire non si parla di altro che della curva dei contagi oggi è l'unica curva cioè sono finite tutte le teorie economiche perché l'unica curva cioè quando io studio economia politica c'è tutte le curve della domanda dell'offerta ma poi si parla tanto della curva dei contagi ma parliamo un'altra curva curva delle presenze dei Pasqualini e Natalini era in netto capo d'accordo altro che a dei livelli preoccupanti cioè quindi aumento del numero di battezzati questi sono battezzati non sono capite cioè pagani peccatori uno li chiama alcuni passi del nuovo testamento e non io per carità e ci stanno più ora io penso da parroco sì quest'anno non c'è la messa di mezzanotte però attenzione io attenzione figlioni miei cari noi pensiamo diciamolo proprio chiaramente ma la divina volontà è estranea al fatto che quest'anno non c'è la messa di mezzanotte è estranea cioè è come dire è una cosa che Dio potrebbe non impedire diciamocelo non è così e come mai che Dio lo permette non sarà forse vuole anche vedere un po' dice vediamo un po' a quanti dei miei figli questa notte piangeranno perché non c'è la messa di mezzanotte piangeranno quantomeno nel cuore piangeranno di nostalgia e sarà un pianto gradito al Signore non è un pianto senza mandare maledizioni o accidenti o imprecazioni contro chi avrebbe impedito questa cosa questo non è comportamento da figli di Dio ma piangere è una cosa bella se l'amato è assento chi è che piange per l'assenza dell'amato Gesù aveva detto quando ci sono io non dovete fare digiuni verrà il tempo in cui dovrete digiunare che sarà il tempo in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno ma chi lo farà oggi questo altro che gli atti divisi nella divina volontà io vivo in un mondo a parte spero che altrove le cose vadano meglio non è che voglio fare il disfattista ma insomma cioè come dire io sono nella gioia sono nella pace ma non sono diventato cieco o stupido o sordo alcune cose si vedono allora punto interrogativo sapete anche la qualificazione la qualificazione la lettura il dare senso alle cose che accadono anche quando sono noi non possiamo noi cristiani dovremmo avere dobbiamo avere bisogna dire la mia volontà la sapienza voi siete il sale della terra ha detto Gesù nel Vangelo il sale della terra cioè quelli che capiscono perché accadono le cose questi sono i sapienti capite? sant'alfonso dice queste parole andate a leggere la pratica di amare Gesù Cristo la vera sposa di Gesù Cristo che è il top l'apparecchio alla morte allora sant'alfonso Maria dei Viguori dice se uno ti manda a quel paese perdonatemi il francesismo ma proprio ti manda a quel paese ricordati sempre che Dio evidentemente non vuole positivamente quel peccato anzi quel peccato ha delle conseguenze e Dio quelle conseguenze le presenterà al peccatore attenzione ma attento però Dio non vuole quel peccato ma vuole che tu soffra l'umiliazione di essere mandato a quel paese quindi la tua reazione non deve essere ma guarda quello che è il cafone ma è mandato a quel paese o peggio ancora che ce lo rimandi pure tu o gli dai tuoi schiaffi no lo perdoni subito e preghi per lui e offre al Signore l'umiliazione e il dolore di essere mandato a quel paese questo è Sant'Alfonso non è neanche Luisa d'accordo quindi Sant'Alfonso è vissuto 200 anni prima di Luisa di Carrita 200 no ma 150 sì ecco che facciamo Davide nella saga scrittura tante volte lo raccontava quando Simei della casa di Saul mentre lui stava scappando perseguitato dal salone dal figlio nato dalle sue viscere stava salendo a piedi scanzi dicono i libri storici l'erta del monte degli olivi ma questo vicino comincia a sputarli addosso a tirargli le pietre a dire disgraziato sanguinario vedi che sta succedendo e sta bene tu delinquente tuo figlio ti vuole ammazzare te pozza ammazzare tuo figlio tu te lo meriti maledetto tu sei un sanguinario c'era il luogotenente di Saul di Davide dice senti un po' Sire mi dai la dispensa che mi giro e gli taglio la testa a st'animale e Davide si arrabbia gli dice che ho in comune con voi figli di Zeuia se Simei maledisce Davide è perché il Signore gli ha detto maledici Davide testuali parole andatela a leggere chissà che il Signore vedendo la mia umiliazione abbia misericordia di me non vedi che sto fuggendo perseguitato dal sangue del mio sangue questo è il re Davide questa è sacra scrittura non è né Luisa d'accordo né altro questa è sacra scrittura né considerazioni come dire strambe di uno strambo prete quale io sono questa è sacra scrittura noi la sapienza non possiamo non avercela noi siamo il sale della terra se siamo amici di Gesù uno che vuole vivere nella divina volontà come reagiamo noi dinanzi a queste cose noi non possiamo reagire come come reagiscono i nostri fratelli e sorelli di cui noi non siamo assolutamente migliori ma che non hanno questa luce nel cuore noi non abbiamo nessun merito per cui ci è venuta questa cosa qui io mi metterei sotto sotto terra perché non mi sento assolutamente mai purtroppo di niente e di nessuno ma noi non possiamo come dire non permetterci permetterci il lusso di essere ciechi e stolti allora torniamo al tema quindi qui poi vi invito a leggerlo perché mi sono notate le bellissime parole il mio ti amo scorre nella potenza dei miracoli che facesti nei sacramenti che istituisti in tutto mio Gesù anche nelle fibre più intime del tuo cuore in primo il mio ti amo per me per tutti quindi un canto d'amore d'accordo gente che non ci pensa mai Gesù io ti metto a andare a raggiungere ogni minimo particolare della tua esistenza proviamo a farlo facciamogli un bel regalo di Natale Gesù vieni a fare un bel giro cominci a pensare alla sua vita vedi quanti ti amo vedi quello che ti inventi quello che riesci a fare questo è una grande risposta al fatto che non ci sarà la missa di mezzanotte tanto per essere chiari a mio avviso vediamo che ti inventi tu Gesù che non sarà adorato non sarà onorato da tanti suoi figli che non festeggeranno una cosa antichissima insomma che facciamo bestemmiamo contro chi ci ha privato questa cosa mandiamo gli accidenti o facciamo qualche altra cosa anche lamentarsi brontolarsi è volontà umana figli miei non è modo di agire soprannaturale chiudono lettura del brano vado fino alla fine perché il tempo sta scadendo ma sai che vuole questa piccola bambina che quel divino volere che tanto amassi facesti in tutta la tua vita sulla terra si faccia conoscere tutte le creature affinché tutti lo amino e adempiano la tua volontà come in cielo e così in terra questa piccola bambina vuole vincerti in amore affinché doni la tua volontà tutte le creature rendi felice questa povera vicina che non vuole altro che ciò che vuoi tu che la tua volontà sia conosciuta e rendi sulla terra noi vogliamo la stessa cosa ora credo che l'obbedienza ne sarà in qualche modo contenta è vero che in molte cose ho dovuto fare dei salti altrimenti non finirei più il fondo è mio supremo volero è per me come una fonte che sorge e ogni piccola cosa che sento che vedo un'offesa fatta al mio Gesù è un'occasione di nuovi modi e nuove fusioni della santissima volontà attenzione vedete un'offesa fatta a Gesù noi non mandiamo gli accidenti contro i peccatori vedi un'offesa fatta a Gesù se ami Gesù nella divina volontà vedere quell'offesa sarà occasione di nuovi modi e nuove fusioni della santissima volontà perché per uno che ti offende io ti amo il doppio per me per lui per tutti agire in maniera divina soprannaturale questo significa ora riprendo col dire che il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia ciò che hai detto sul fonderti nel mio volere ci vuole un altro appello qual è quello di fonderti nell'ordine della grazia in tutto ciò che ha fatto e farà il santificatore santificante quale lo spirito molto più che se la creazione si addice al padre mentre siamo sempre unite dal divino e persone nell'operare la redenzione al figlio e il fiat volontas tua si additerà allo spirito santo ed è proprio nel fiat volontas tua che il divino spirito fa la sfoggio della sua opera tu lo fai quando venendo innanzi alla maestà suprema dici vengo a ricambiare in amore tutto ciò che fa il santificatore santificante e vengo ad entrare nell'ordine della grazia per potervi dare la gloria e il ricambio dell'amore come se tutti si fossero fatti santi e a ripararvi tutte le opposizioni le incorrispondenze alla grazia bellissime queste parole no? a ricambiare in amore tutto ciò che fa lo spirito santo il santificatore a quelli che devono essere santificati ricambio in amore ma entro nell'ordine della grazia termine tecnico per dare ricambio d'amore per cosa? per tutte le grazie sprecate che non sepoltano come se tutti si fossero fatti santi e non solo a riparare le opposizioni le incorrispondenze e i rifiuti della grazia e per quanto è da te continuo ancora cerchi nella nostra volontà gli atti della grazia dello spirito santificatore per fare tuo il suo dolore i suoi gemi di segreti i suoi sospiri angosciosi nel fondo dei cuori per vedersi così male accolto e siccome il primo atto che fa è portare la nostra volontà come atto completo della loro santificazione nel vedersi respinto attenzione geme con gemiti inenarrabili e tu nella tua infantile semplicità gli dici spirito santificatore fate presto vi supplico vi prego fate conoscere a tutti la vostra volontà finché conoscendola la amino e accolgano il vostro primo atto della loro santificazione completa qual è la vostra volontà figlia mia le tre divine persone siano inseparabili siamo inseparabili e distinte e così vogliamo manifestare l'umana generazione e le nostre opere verso di loro che mentre siamo lì tra noi ognuno di noi vuole manifestare distintamente il suo amore e la sua opera verso le creature troppo non abbiamo tempo perché siamo quasi vicini a un'ora insomma per approfondire bene questi ultimi stracci no? e due cose nel vedersi respinto geme con gemiti inenarrabili i gemiti dello Spirito Santo sono delle espressioni molto molto misteriose queste qui una delle cose che appare negli scritti di Luisa è veramente il dolore di Dio di vedersi respinto il dolore che oggi è è assolutamente diffuso e poi l'infantile semplicità di chi girando anche nel Fia Santificante cerca di continuare ad invocare la Divina Volontà di riparare queste tante incongruenze infantile semplicità no? sentiamo le parole del Vangelo lasciate che i bambini vengano lì possiamo essere tutti quanti bambini evangelici nelle mani del Signore e semplicità prudenti come serpenti sì ha detto il Signore ma anche semplici candili come le colombe immagini bellissime dei figli della Luce e dei figli della Divina Volontà dobbiamo chiudere perché si siamo dilungati già abbastanza oltre diciamo così quello che dovrebbe essere questa catechese dovrebbe trovare secondo me un 45 siamo andati un pochino un pochino oltre come è andata va bene a tutti voi che seguono soltanto questa catechese che la sentiranno prima del Natale dove viene venuto un Santo Natale a tutti quanti gli altri cari amici che si chiamano followers con termine tecnico ci vediamo presto per i prossimi appuntamenti il primo dei quali catechetico dopo domani sera con il ciclo di catechesi dottrinari appunto la sala dottrina cattolica una Santa Notte a tutti Dio vi benedica la Madonna vi protegga Ave Maria